non ci passiamo allora deve andare su di qua e qua non è no forse l'ultimo vai giù di qua se li passiamo schianco eh ma verso in moto non è questa e allora andiamo su da qua andiamo su dalla seditina quella che scendiamo quella più facile eh sì se andiamo in su di quello che saliamo poi a sinistra possiamo andare di là scendiamo di là sì sì di là sì 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Sono caduto giù per terra Sono caduto giù per terra